Brian! 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 Ma non è mica un gatto Giacomo, è un cane! E allora chiamalo tu! Brian! Brian! Ehi, devi chiamare, cioè buttar fuori di qui, di cosa... Brian! È qua ma non si vede, dove è? Brian! Brian! Incredibile! Cosa? Cioè è venuto fin qua per buttarsi di sotto, povera bestia! Ma che dici, i cani mica si suicidano? E poi Brian era allegro, felice, sempre sorridente! E infatti vedi, ne parli già al passato! Dico era perché chissà dov'è adesso, l'ultima volta che l'ho visto due ore fa che zampettava Felice in spiaggia! Tieniti caro questo bel ricordo! Brian! 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 Aldo! Quello non è lui? Dove? Quello a masso disarticolato! Sono sassi! Vedi che non si muove! Ha fatto un volo di 30 metri, chiaro che non si muove! Povera bestia! Brian! Brianino! Brianino! Certo che tu sei veramente un bastardo! Perché scusa? Ma perché devi infierire? Non vedi che è già lì che soffre? E tu allora? Cosa? Vai in giro a sfregiare la gente e poi queste sono le conseguenze! Io non ho sfregiato nessuno! In ogni caso, per la cronica, io sono stato assolto anche in appello! Sì, anche in appello! Brian! Sei tu! Brian! 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 Brian, amore mio! Mi l'ho sentito che tratta! Ma dove sei stato? Che cosa hai fatto? Che cosa hai fatto? Hai capito, Brianino? Deve essere un giudetto di famiglia! Ah!